musica 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 che cazzo stai facendo? mi sto riscaldando pensavo che volevi andare a correre sto correndo perchè ma che cosa te lo dico a fare allora mi prego se c'è qualche ragazza interessata ok a partecipare a scherzi di coppia come nuova ragazza del sottoscritto mi prego di contattarmi qui sotto ok perchè io veramente sono non ce la faccio cos'è? ah ma che cazzo la divanta? luca smettila smettila di fare il cretino tutte le volte tutte le sante volte sempre ve lo regalo lo volete? ve lo regalo bella lei stupido dai partiamo raccontiamo che cosa stiamo per fare in questo bagno ciao raga benvenuti alla doccia fredda ciao leee bene oggi ci cronometreremo e chi rimarrà più sotto alla doccia fredda vince cosa vince? una guffeggione piccola di bosticini piccola a me non piacciono i dolci e allora a me le pizzette ma io voglio anche le pizzette allora metà pizzette e metà pizzette no vabbè vabbè dispari bim bum vale giù colpo secco dispari mio vai fila 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 dentro vai dov'è il cronometro? ce l'abbiamo un telefono per cronometrare non hai il telefono? no io non l'ho prendo nemmeno io l'ho prendo dai Katia fa l'inventare sto progetto dai dai a prenderlo su ma che palle bene ragazzi sto per fargli uno scherzo io non entrerò assolutamente in doccia ma col cavolo che mi faccio la doccia fredda quindi niente gli farò fare la doccia a lui facendogli credere che dopo entrerò anch'io invece non entrerò assolutamente ah bella raga iscrivetevi al canale e mettete like ah ho preso freddissimo Bubi siamo pronti per partire Bubi sei pronto? psicologicamente e mentalmente tutto? sicuramente sto cercando di riscaldarmi da mezz'ora vabbè ma hai mandato a prendere il cronometro nel geno della casa quindi ripetiamo vince chi rimane sotto l'acqua fredda di più ti straccia porca miseria ma che idea di merda siamo pronti eh per partire Bubi dimmi quando ti faccio partire aaaaaaah ma è freddissima mi hai salentato eh ok sono ancora qua col dito così pronto? no non sono pronti psicologicamente da due secondi perché sennò mi vede il cagotto vado eh raga raga dai chi perde cosa facciamo? ancora hai detto i pasticcini del cazzo mi vince il coglione e chi perde si sta già facendo la doccia fredda ah ok uno due tre dai uh partito aaaaaah aaaaah aaaaaa aaaaaah aaaaah aaaaaaah aaaaaah aaaaaaah 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 aaaah dai Bubi dai dai c'è un minuto! basta! no neanche un minuto dai! BASTA! da me lascio la mano dai 24 secondi fai gagare! voglio vedere te l'incapeggio dei ruscelli che simpatico beh non è stata un'esperienza sensoriale non lo so sai quelle robe che ti fanno uscire l'anima dal corpo ti fanno fare viaggioni perchè sto tenendo questo coso qua così che è finito vabbè 24 e 33 secondi fai gagare almeno un minuto dovevi farlo sotto l'acqua vai te dai BASTA! io non devo mica farlo ti pare? secondo te? mica lo faccio lo fai solo tu ciao raga come vi dicevo iscrivetevi al canale mettete like e mi raccomando tanti like per booby che è stato molto coraggioso e soprattutto perchè è stato preso per il culo da me booby scusa non sei contento di aver vinto? hai vinto basta non ci sono altre spiegazioni hai vinto anche se hai fatto una schifezza di tempo hai vinto hai vinto basta io sono a posto così non ho voglia di far la doccia fredda grazie un'altra volta magari ma che cazzo ha detto ciao bubby ciao 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 bubby ciao 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 hoone Ma ciao, ciao, sei fatto congelato Sei congelato Partito Questa me la paga Stop, dimentica perché Continua, farà simpatica Preparatevi al peggio, raga Ciao